Sono Dvoran Kona, medico chirurgo estetico di Milano. Sono esperta in tecnologie laser e a radiofrequenza di ultima generazione. Le ho importate ed esportate da Israele, dagli Stati Uniti, dalla Corea e ne sono fiera. Studio le tecniche più avanzate che mi servono per rallentare il processo di invecchiamento del corpo, ma anche del viso. Quindi mi occupo di entrambi, cercando di dare il tono e la freschezza che si ha quando si è giovani, senza andarne a cambiare i connotati, in perfetta armonia e naturalezza. Mi occupo di rigenerazione dei tessuti, ed esattamente di tessuti di tutto il corpo. Mi occupo del viso, tramite radiofrequenze e laser, sia per rimuovere macchie che per rimuovere rughe, anche per rimuovere i capillari. Ma nello stesso tempo mi occupo anche del tono, con le radiofrequenze di ultime generazioni, che si permettono quindi dalla parte più superficiale fino ad arrivare alla parte più profonda. E non solo. I laser, le ultime tecnologie ad ultrasuoni, tantissime e tantissime apparecchiature che mi possono servire, sia per il viso che per i corpi. Lavoro in team, perché trovo che lavorare da soli sia un po' noioso e poco costruttivo specialmente. Mi piace insieme ai miei partner occuparmi del viso, del corpo, come vi dicevo, ma anche di tutto quello che è l'arredamento, o quello che è il fashion, o può essere anche tutto quello che è l'advertising, proprio per emergere e farmi notare. Sì, questo ci tengo a dirlo. Se non sei conosciuto e nessuno sa chi sei, mai e poi mai potrai avere dei pazienti che ti vedranno, che quindi verranno a sottoporsi alle tue cure. La mia clinica è composta da varie stanze. Questa, ad esempio, è la principale, dove io vado a fare delle valutazioni, sul corpo e sul viso, come al solito, per vedere lo stato di invecchiamento. E ancora una volta cerco, insieme al paziente, in base alla problematica, di trovarne la soluzione. La soluzione che verrà poi curata in modo armonioso, naturale. Ci tengo sempre a ripeterlo e a ridirlo. Tramite strumentazioni. Poche iniezioni e che devono servire solo per definire qualche microcontorno. Tanta tecnologia per migliorare il tono del tessuto della pelle o per rinfrescare. Nella stanza comunicante ho le tecnologie. Esattamente dietro a me si possono vedere delle tecnologie incredibili, che è difficile trovare in qualunque parte d'Italia. Dai laser a queste radiofrequenze che con microaghi sono in grado di andare a togliere le borse degli occhi, togliere il doppio mento, dare la forma ai lineamenti del corpo. Ma non solo. Ci sono in altre stanze del reparto, invece corpo, apparecchiature che servono per rimuovere il grasso, ridefinire la silhouette. Nella clinica abbiamo una stanza adibita alla dieta, dove i dietisti si occupano di valutare il peso corporeo e di dare la corretta alimentazione, perché anche dall'alimentazione si può migliorare il tono e l'effetto della silhouette può essere più ricompattato. Abbinata alla stanza dieta abbiamo un vero e proprio reparto corpo, dove ci sono macchine, anche qui di nuova tecnologia, che servono per eliminare il grasso, come dicevo precedentemente, rimodellare le braccia, l'interno coscia e ancora il collo, l'addome. Ecco, tutto nel proprio insieme per avere una figura armoniosa. Nella clinica è applicato un concetto estremo di tecnologia, ma anche di pulizia. Ogni dettaglio deve essere considerato pulito nel modo più estremo per avere un'igiene totale. La parte ludica è affidata alla zona bar, dove si possono bere dei tè sri lanchesi, tè verdi o ancora assaggiare delle prelibatezze israeliane, che servono proprio per farci capire come il gusto non debba mancare, ma l'effetto tensione della pelle debba sempre rimanere. La reception è accogliente, proprio perché dove entri devi sentire un rapporto di famiglia, di casa, di tranquillità. Questo lampadario che ha i cristalli e rappresenta la purezza e l'eleganza, lo stile dello studio. L'armonia e l'equilibrio sono proprio di questo studio e di tutte le persone che ci vivono, che ci collaborano e che fanno sì che questo studio rappresenti uno dei punti più importanti dell'Italia, di Milano, per poter rimanere aggiornati con le nuove tecnologie e rimanere allo stesso tempo giovani e freschi senza cambiare di immagine oppure di forme. Vi aspettiamo per la cura ed il benessere del vostro corpo, per essere belli senza visto.